Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video che oggi vi voglio raccontarvi l'intervento che avevo fatto tre anni fa che io sono nata che ero strabica che con quest'occhio qua sono stata operata e questa hanno detto che non è da operare e vi racconto la storia da lì volevo dirvi che quando sono stata operata è stato è stato il giorno dopo che ho finito la scuola che avevo fatto il diploma mi ricordo il giorno che mi hanno fatto le visite i controlli e tutto il resto e dopo mi hanno detto il giorno dopo di fare un intervento mi hanno fatto l'esame del sangue il cuore, i raggi tutti i controlli che volevano loro il giorno che sono stata operata era il luglio l'8 luglio del 2015 mi ricordo che sono andata là che dovevo aspettare dovevo aspettare il mio turno e mi avevano dato la posto della camera dove ero e mi ricordo che è stato non mi ricordo tutto sapete perché è passato tre anni mi ricordo che mi hanno detto di aspettare mi hanno provato la pressione ero tutto normale sono entrata in una sala operatoria che erano le 11 e il chirurgo mi dice Sara ti facciamo l'operazione da sveglia e ho detto come fate a farlo da sveglia mi hanno detto che sdraiarmi sul sul coso per essere operata e mi hanno dato tre quattro gocce per far addormentare tutto l'occhio tranne la pupilla perché la pupilla cioè vedevo direttamente tutto mi hanno addormentato il torno della pupilla la cosa che mi ha fatto più senso dell'intervento perché quando avevano tagliato all'inizio lo sentivo ancora dopo quando hanno messo un'altra goccia non lo sentivo neanche più perché quando mi hanno operato era una cosa strana perché guardavo vedevo tutti gli strumenti il dottore cioè il quirurgo la cosa più bella è che quando mi hanno mi hanno preso il nervo che è il nervo dell'occhio ho visto ho visto le stelle mi stava mi veniva voglia di piandere solo che il quirurgo mi ha detto non piangere perché sennò ti do una botta in testa e ho detto ok sto zitta e non piango dopo ho finito che mi avevano lasciato ancora la ferita aperta mi hanno alzato e mi hanno fatto provare gli occhiali per vedere se l'occhio era dritto per vedere con gli occhiali hanno detto che era tutto a posto mi hanno ricucita e dopo ho finito l'intervento mi hanno messo su un lettino e mi hanno riportato in camera dopo il giorno dopo il pomeriggio mi hanno detto il chirurgo di forzare il nervo e l'ho fatto dopo un po' mi sono addormentato perché ero stanca sono di fatto nella camera so perché con l'ansia tutto la paura tra e l'altro mi sono messa mi ero commossa e anche mio padre si era commossa poi a pomeriggio mio papà se n'è andato è rimasta mia madre con me quando è successo che non ero da solo in camera c'era un'altra nuova che doveva fare proprio l'operazione proprio fisica e fortuna che per la notte non sono rimasta da solo c'era quella signora perché dopo quando alla sera sono arrivati i miei mio padre dico ti devo far vedere una sorpresa che sorpresa moto sorpresa è arrivato con che adesso è veramente il mio ragazzo all'inizio non avevo quella cotta che non siamo stati insieme dopo un po' mi sono ammessenata dico come fa il mio migliore amico a venire qua a trovare l'ospedale cioè io lì ero rimasta commossa ero contenta l'altra signora mi chiede Sara Sara è il tuo ragazzo mi ha detto no non siamo neanche finanziati le ho detto dopo mi sono andati via e mi ero tormentata che erano le nove e dopo mi hanno svegliato alle sei e mezza di mattina che io non vedevo neanche niente perché i miei occhi si erano chiusi cioè non riuscivo a aprirli perché si era seccato qua che avevo ancora i punti piano piano sono andato dove volevano controllarmi il controllo così facevo così non sapevo dove andare la cosa è che dopo il giorno dopo alle otto è arrivato mio papà e sono andata a casa subito perché sono andata in quella di hospital che ci stai un giorno e poi vai a casa ma io ho fatto ho detto faccio meglio rimanere qua che è meglio per me perché il giorno dopo mi devono fare il controllo sono già qui che faccio prima che andare a casa poi alle otto è venuto mio padre ho fatto colazione in ospedale e sono arrivata a casa e il chirurgo mi ha dato delle gocce da prendere per i punti e adesso non si vede neanche più niente guardate vedete non si vede neanche più niente qualche al cambio della stagione sento il nervo che mi fa male ma non è tanto così se vi è piaciuto il racconto della mia operazione mettete un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video